Si dice serene di aver agito sempre in buona fede la famosissima influencer Chiara Ferragni che risulta indagata per truffa aggravata. L'inchiesta della Procura di Milano sulla campagna benefica incentrata sul Pandoro Rosa ha registrato una svolta lunedì sera con l'iscrizione della influencer nel registro degli indagati. Insieme a lei anche Alessandra Balocco, presidente e amministratrice delegata della società che produce il Pandoro, ma anche di Francesco Cannillo, proprietario di Dolci Preziosi, azienda con cui la Ferragni avrebbe operato allo stesso modo, questa volta però con le uova di Pasqua. Secondo alcune indiscrezioni presto potrebbe essere sentito come testimone Fabio Maria D'Amato il braccio destro di Ferragni finito nel mirino dopo l'esplosione dello scandalo. A mettere il dito nella piaga ci pensa il Kodakons che annuncia un'azione collettiva contro Chiara Ferragni per conto di tutte le parti lese dai presunti illeciti per cui indaga la magistratura volta a far ottenere ai consumatori che hanno acquistato il Pandoro Balocco Pink Christmas il rimborso delle maggiori somme pagate. Una class action di circa 1,6 milioni di euro, somma calcolata sugli oltre 290.000 Pandori venduti nel 2022 è pari alla differenza tra il prezzo del Pandoro normale Balocco di 3,68 euro e quello griffato Ferragni di 9,37 euro. Anche in assenza di scontrino tutti i consumatori che hanno acquistato il Pandoro Pink Christmas prosegue il Kodakons possono aderire alla nostra azione e chiedere a Chiara Ferragni alla Balocco il rimborso delle maggiori somme pagate delegando il Kodakons a rappresentarli come parte offesa nell'inchiesta della Procura di Milano. Nel frattempo l'ospedale Regina Margherita di Torino ha confermato in una nota di aver ricevuto nella settimana antecedente Natale la donazione di un milione di euro da parte dell'influencer come promesso lo scorso 18 dicembre, data del suo ultimo video postato sui social quando era apparsa, dimessa e dispiaciuta per la situazione che si stava delineando.